Consigliere Scarpantonio, il bilancio di previsione della provincia di Teramo è passato al primo step, con lei ovviamente parliamo del capitolo di spesa relativo alle strade, cominciando proprio da quello che è stato deciso in questo primo passaggio. Beh, evidentemente abbiamo approvato il bilancio di previsione della provincia che è comunque in sofferenza, perché parliamo di previsioni oggi che è in novembre, quindi a fine anno, a fine anno, a fine anno. Questo perché comunque le province stanno attraversando un periodo di difficoltà in Italia, dovuto al fatto che dovevano essere soppresse con i dati referendari del 6 dicembre. Oggi è la provincia che deve essere vista da parte del legislatore, tritandogli delle risorse proprie. È un bilancio asfitico, perché comunque gran parte del bilancio è incentrato sulla spesa corrente, sul gestire corrente, e per quanto riguarda le viabilità, siamo riusciti a recuperare quest'anno il capitolo della mototensione per 1.700.000 euro. Abbiamo aumentato, rispetto all'anno precedente, di circa 600.000 euro, quindi abbiamo recuperato tutte le risorse possibili per poter mettere più soldi sulle mototensioni. Comunque sono sempre somme insufficienti se consideriamo che abbiamo circa 1.600 chilometri di strade. Il Presidente Di Sabatino qualche giorno fa si è detto, addirittura disposto, o comunque con una provocazione, ha detto che chiudiamo le strade che non riusciamo a mettere in regola. Sì, alla fine noi abbiamo cercato comunque di non chiudere le strade provinciali, perché non vogliamo mettere in difficoltà i centri abitati, i nostri cittadini, creando maggior disagio rispetto all'attuale disagio che vivono con le nostre strade. Stiamo la valutando, effettivamente, il problema che si è posto con l'ultima tragedia, è quello di capire, di fare un motoraggio sulle strade che possono essere impiegate per alcuni mezzi deboli, come biciclette, con motocicli e quant'altro, quindi tornare lì con alcune segnaletiche particolari per dare una sensibilità a un territorio. Non tutte le strade sono percorribili allo stesso modo, abbiamo diverse aree territoriali in grandi difficoltà in termini di viabilità e sulla segnaletica ci stiamo ragionando insieme agli uffici e al Presidente. Noi abbiamo un piano della provincia di Terra per dare un degno decoro inviato a Regione Plus due anni fa, che era 35 milioni di euro, di soldi che chiedevamo di programmare per le emotensioni straordinarie sulla viabilità. Di quei 35 milioni sono arrivati 8 e mezzo, come diceva il Presidente stamattina, ma non 8 e mezzo della provincia di Terra, ma sono arrivati alla città Valfino, di cui secondo me sono in ritardo in termini di intervento sul territorio, perché è arrivato l'anno e mezzo e oggi stanno facendo il bando solamente per la progettazione, quindi stanno a fase zero rispetto all'intervento sul territorio. Ci mancano ancora 26 milioni di quelle che abbiamo programmato, di quelli di 6 milioni c'è stato il Presidente D'Alfonso, ha annunciato che attraverso le mutazioni arrivano 15, comunque ne mancherebbero ancora 11 per dare un decoro alle strade, quindi fare un primo intervento importante, ma non risdico sempre, non risolutivo perché parliamo sempre di 1600 km di strade provinciale.